Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dell'Angolo del Lubacchiotto. Quest'oggi parleremo purtroppo del nostro Cosenza sconfitto in casa per 3-2 contro il Lecce. Un Cosenza che a parer mio non è stato uno, ma sono stati due. Perché nel primo tempo ho visto un Cosenza molto svogliato, quasi non sceso in campo e completamente in balia del Lecce. Infatti il Lecce i primi due gol li ha trovati nei primi 15 minuti. E se ne è sbagliato un terzo con Balombi che ha semplicemente allargato troppo il piatto, se no era 3-0 dopo i 17 minuti. Al contrario ho visto un Cosenza molto più attivo, voglioso di fare la partita e voglioso di andare a rimontare nel secondo tempo. Cosa che non è riuscita per poco, perché alla doppietta di Tutino ha prontamente risposto Falco. Intanto comunque le prestazioni mi stanno piacendo. Diciamo che della partita salverei ovviamente, come tutti, credo, solamente il secondo tempo. Perché nel primo tempo veramente siamo stati inguardabili e non mi faccio problemi a dirlo. Allora, diciamo che il Lecce era molto più forte di te sulla carta. Secondo me il Lecce è una delle squadre accreditate per salire in Serie A. Perché è un buon organico, ha buone sostituzioni, ha un ricambio in ogni ruolo utilissimo praticamente. Un Lecce che comunque è stato molto cinico, il Lecce che ha fatto 5 tiri, dei quali 3 sono entrati. Uno, appunto, come ho detto prima, Palombi l'ha buttato fuori e l'altro, lo stesso Palombi, si è fatto ipnotizzare a Saracco. Questo veramente è quello che io vorrei vedere al Cosenza, la cinicità. Perché il Cosenza tira tira ma non segna mai. Migliori in campo sicuramente Tutino, del Cosenza ovviamente, sicuramente Tutino perché oltre alla doppietta ha fatto una buona partita mentre in difesa il muro di Legittimo continua a fare, a suon di prestazioni, a diventare il migliore della difesa a mio parere. E comunque sinceramente io che a inizio anno non me l'aspettavo così forte Legittimo, mi sto seriamente ricredendo perché veramente sta sfoderando prestazioni una migliore dell'altra. Sembra che ci giri tutto contro perché in zona salvezza il Padova, che era nei play-out con noi, vince sul difficilissimo campo di Ascoli per 3-2. Un Ascoli che era in un ottimo momento di forma e che era imbattuto da un po' di gare, perde appunto tra le mure amiche con la squadra di Bisoli che era in bilico ma salva la panchina, almeno momentaneamente. Così come il Carpi che sotto di due in casa con il Benevento riesce a ciuffare il pari al 94esimo. Una panchina che al contrario di Bisoli è saltata nelle scorse ore è stata quella di Grosso, all'Elas Verona dopo la pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Brescia, un Brescia che noi abbiamo già affrontato. Con noi non ha giocato benissimo però comunque resta una grande squadra a prescindere. Mentre il big match tra prima e seconda al Barbera di Palermo, tra Palermo e Pescara, termina con un pesante 3-0 da parte degli uomini di Stellone rifilato agli abruzzesi. Un pescara che dunque perde la vetta appunto a scapito del Palermo, entrambe come ben sappiamo le abbiamo affrontate e comunque c'è da dire che la classifica è molto corta soprattutto nelle prime posizioni. Settimana prossima si riposa, l'unica partita che si giocherà sarà Spezia Benevento che è il recupero della decima giornata quando la Spezia è diluviato, mentre fra due settimane il Cosenza giocherà il posticipo del lunedì sera, il derby contro il Crotone all'uscita. Comunque una partita molto importante perché noi siamo nei play-out ma il Crotone è 4 punti sopra di noi sostanzialmente. C'è anche il Crotone abbastanza diciamo nelle zone basse della classifica. Detto questo io vi saluto, come sempre vi rinnovo l'appuntamento all'UPC Nasce e Forza Cosenza sempre, perdonatemi se sta frase la dico sempre, però ci vuole sempre anche perché la fede va dimostrata. Io sono il tifoso del Cosenza e lo dirò all'infinito Forza Cosenza. Quindi Linea Studio, ciao!